Capitano Di Francesco, è successo un po' di tutto oggi fra gol dati, gol non dati, rigori dati, rigori non dati, ammunizioni, espulsioni, risse, fatto sta che il Pontevoano ha ottenuto la terza vittoria consecutiva fra le Muramica. Beh, diciamo è stata veramente una partita ai limiti del rocambolesco, però anche sul tre pari abbiamo avuto la forza e il coraggio di andare di nuovo a vincere la partita, un merito va sicuramente a tutta la società, a tutta la squadra che veramente stiamo facendo di tutto per risarire la classifica. Grazie a Dio è stata una partita dove siamo riusciti a trovare i tre punti che era la cosa più importante per noi. Sono amareggiato sia per la sconfitta, ovviamente facciamo i complimenti al Pontevoano che ha vinto questa partita, ma sono amareggiato per una condizione di gara veramente che oggi mi ha fatto passare un pochettino la voglia perché veramente ho visto cose allucinanti. Spero che facciate vedere tutte le situazioni, sia nel retropassaggio al portiere che non c'era, che non era un retropassaggio, sia il rigore dato il primo tempo che non c'era per il Pontevoano e sia l'ultimo episodio del rigore, quello che è andato a schiacciare la palla con le mani. Veramente mi sembra una cosa assurda, poi parleremo ovviamente della partita, quanto ti pare, ma credo che la situazione imbarazzante sia quella vista oggi dalla parte della conduzione dell'albero.